e ora di spazio andas a se tras proiettando il pezzo delante e mira delante no a dire chiedete che è sufficiente prima e mentre non hai certo tras con le spalda e ora di spazio sube l'ombro sube il disco mira delante perfettamente perpendicolare e ora baca bravo, questo sta bene, una mas baca e assi attiva il pezzo sta bene, il pezzo assi la luna elastica l'ombros assi a los bolsillos, questo sta bene, ultima bravo una verticale verticale